E' il giorno di Samba l'Aquila nel big match della giornata numero 13. Agli ordini del signor recupero di Lecce, le due formazioni rosso-blu si incrociano in un Riviera delle Palme, pieno zeppo di pubblico per il record di presenze all'interno dell'impianto marchigiano, uno dei più affascinanti dell'intera Serie D nazionale. I 6.114 spettatori paganti, prima del fischio d'inizio, urlano un secco no all'unisono alla violenza sulle donne. Lauro costretto a seguire il match dalla tribuna a causa squalifica con scelte obbligate legate alle decisioni del giudice sportivo. Attacco affidato a Tomassini e Alessandro per un classico ma sempre attuale 4-4-2. L'Aquila ancora, e aggiungiamo giustamente, con l'undici vittorioso contro l'Avezzano, con Cappellacci in cerca di conferme dopo il suo percorso iniziato contro il Sora. Primi minuti e primi affondi sulla destra per entrambe. Prima ci prova Banegas con Coco, bravo alla presa a terra. Poco dopo è il turno di Cardoni a far paura a Michelin, ma il destro risulta altissimo. All'ottavo l'Aquila gestisce male un pallone e Scimia può partire in contropiede. Il contatto al limite dell'area è corretto e recupero Fischietto Leccese lascia correre. L'Aquila non sta a guardare e al 14esimo mette in apprensione la difesa marchigiana, che dopo mischia furibonda si rifugia in angolo. Dopo il corner è Fulminio il contropiede marchigiano, ma Alessandro trova Michelin reattivo sul destro. Al 23esimo è super Michelin. Dalla destra arriva il cross a favore di Battista, che senza pensarci mira lo specchio. Il compasso del numero 12 Aquilano si apre alla perfezione, dicendo no al vantaggio locale. Col passare dei minuti l'Aquila tiene bene il campo, gestendo il pallone nella metà campo avversaria. Fino al minuto 40, quando Battista sulla sinistra, imbeccato da un cambiolato lungimirante di Arrigoni, lascia Pagliari. Il 3 classe 2004 vede l'incursione di Tomassini sulla destra. Il piattone al volo del 9 va a morire all'angolino con Michelin, che stavolta non può davvero farci nulla. Samb 1, l'Aquila 0. Da qui al 47esimo non succede più nulla. L'Aquila colpita e ferita nel momento in cui sembrava più equilibrata, ma la Samb di certo ha fatto vedere qualcosa in più. In apertura di ripresa nessun cambio e Samb, che appena può, colpisce. Dalla sinistra arriva l'ennesimo traversone per Tomassini, che di testa, sovrastando Tavoni, sigla il 2 a 0 e la sua personalissima doppietta. L'Aquila prova a reagire, ma Banegas al nono non trova il giro giusto col Mancino, ma andando di parecchio oltre lo specchio di Coco. Cappellacci allora decide di rivoluzionare la sua squadra e ne cambia quattro in un solo slot. Out, Galesio, Bellardinelli, Tavoni e Carbonelli. Dentro Bacio Terracino, Lorenzoni, Pietro Paolo e Jonathan Alessandro. I minuti passano, le occasioni latitano. La Samb ovviamente non ha bisogno di accelerare, l'Aquila dovrebbe, ma non riesce a farlo. Ci prova Bacio Terracino con uno spunto individuale, ma il tiro del 7 fa dormire sonni tranquilli a Coco. Da angolo, al minuto 88, ci prova Mantini di testa, ma anche in questa occasione mira e forza sbagliate. Il resto della scena se lo prendono i tifosi. La Nord della Samb festeggia con la classica sciarpata, mentre i Red Blue Eagles dimostrano il loro amore, malgrado un'opaca prestazione dei propri beniamini.